Quando siamo arrivati alle 3 esatte del 12 gennaio 2013, le luci si spengono e le mani si alzano tutte al cielo. Ladies e Gentile, signore e signori, da questo momento scoppa l'ora del grande gruppo e con ogni piacere, con immenso orgoglio, ti presento alla canzone Michel Andrea. Mattioli La poesia inizia con la rivoluzione La poesia inizia con la rivoluzione La poesia inizia La poesia inizia con la rivoluzione La poesia inizia La poesia inizia La poesia inizia La poesia inizia La poesia La poesia inizia 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 La poesia inizia